Sì, è andata bene. Il pedaglio ormai è andata, quindi è una cosa che mi rimarrà a me, però come mi rimarrà questa giornata che è indelevole, nel senso che sognavo un esordio così, è andato bene, è andato bene. Sì, è andato bene, nel senso che allenato mi sono sempre allenato, il mio problema è che nel tre campionato ho fatto poche amiche ore, comunque qualche amiche ore, ma al massimo 45 minuti, quindi i 90 minuti ancora sicuramente non li ho, quindi mi alleno per prenderli prima per prendere il prima possibile a tempo. Alessandro, che bello anno? Il gruppo è unito, sinceramente, sono tutti bravi ragazzi, tutti ottimi giocatori, c'è voglia di fare bene da parte di tutti, quindi ho trovato sicuramente molto meglio. Aleppo, a me lo calcio con l'Italia, grandi squadre, al suo tempo, al suo tempo, al suo tempo, al suo tempo. Sì, purtroppo sono ancora in prestito, quindi direi che... Ma io sinceramente penso al presente, penso a far bene, io voglio conquistare appunto questa maglia, con quell'opportunità in cui ho, oggi migliora questa giornata, e adesso penso gioco dietro, la voglia di risposta. Tu hai un'idea di dove può arrivare questa squadra? La squadra è forte, è una squadra che è arrivata terza da uno sport, quindi non è una cosa da assolutamente valutare, ma a parte di tutti i giorni della squadra si è rafforzata da qualche giocatore, e quindi può giocarsi, ma sicuramente è un po' ottimo gioco, quindi è un campo molto lungo e adesso siamo solo alla cazzo di un'altra. Partita è scommunica quella di oggi, no? Sì, partita strana, parte del tempo e comunque condiziona un po' il gioco. L'indonese, che comunque è una buona squadra, è stata chiusa bene nel primo tempo e poi siamo stati bravi a mantenere il vantaggio e a tenere il processo. Può dire che i brocchietieri ti hanno fatto qualche ruolo in attima? No, loro sono amici e sono contenti, perché ho fatto una buona squadra. Grazie, grazie. Grazie, grazie.